Mi fa ovviamente molto piacere, era una cosa che non era annunciata, non era nemmeno aspettata se vogliamo, quindi è una sorpresa da mia parte che mi onora e mi fa piacere. Una novità, ma in realtà il legame con questo teatro è lunghissimo e affonda le radici ben lontano. E ahimè sì, anche perché questo poi mi farà svelare la mia età che non è più così rosea, diciamo. Io sono entrato, anzi ricordo perfettamente il mio primo giorno di lavoro, il mio primo contratto al Teatro Verdi, era metà gennaio del 1988, quindi insomma andiamo un po' indietro. Poi è vero che per un decennio ho vissuto all'estero, ho lavorato all'estero, ma insomma io ho iniziato qua e sono stato felice poi di ritornare, lietissimo adesso di iniziare questo nuovo percorso.